La zona artigianale di Tre Punti continua a rivelarsi un'importante fucina di start-up mondiali, l'ultimo di una serie finalmente entrato nel vivo e ormai vede vicino il traguardo finale, il processo di sviluppo del progetto denominato T-Box Masterclass, evento di alta formazione, che punta alla diffusione di un concept abitativo altamente innovativo ideato da Archicart, architettura di cartone di aria, con la collaborazione dell'Università di Catania e partner del territorio. Il prototipo T-Box è stato sviluppato in uno spazio attrezzato del polo produttivo della zona artigianale giarese da quattro giovani ingegneri e imprenditori trentenni, Dario Di Stefano, Mario Schiliro, Gianfranco Di Stefano e Nicola Timpanaro. Sono loro i creatori della start-up innovativa che hanno studiato un sistema costruttivo unico al mondo, utilizzando il cartone ondulato come materiale da costruzione. L'inedita start-up, tra l'altro, promuove anche la cultura dell'abitare e il cambiamento attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi per l'ingegneria e l'architettura. Si tratta di un'esperienza finalizzata alla sperimentazione, fabbricazione, autocostruzione e monitoraggio di un test-box di 20 metri quadrati, primo prototipo abitativo interamente realizzato con struttura portante in cartone ondulato. La tecnologia brevettata nel 2014 è quella dei pannelli alveolari in cartone ondulato. L'iniziativa comunque è il frutto della profigua partnership accademica tra Archicart e l'Università di Catania nell'ambito degli studi condotti durante il ciclo del dottorato di ricerca. Il progetto dei quattro giovani ingegneri catenesi si sviluppa attraverso variegate attività che si svolgeranno nell'arco temporale di un anno sorale. Sono coinvolti nel processo circa 50 studenti del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, selezionati in base a motivazioni e merito, e immersi anche in una reale esperienza di ricerca e sperimentazione, organizzata in tappe di seminari e laboratori culminati poi con l'autocostruzione del primo prototipo abitativo in cartone ondulato e nel suo monitoraggio. Il progetto T-Box Masterclass si suddivide per fasi operative. In un primo step sono programmate lezioni frontali, esercitazioni, fabbricazione e autocostruzione a seguire workshop che vedranno l'installazione di varie apparecchature di monitoraggio e lo svolgimento di test mirati.